via 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 te lo meriti te lo meriti tu e prendo e prendo e prendo zack e prendo e prendo e prendo e prendo l'espai e prendo o l'espai l'espai O T'o Asi grazie grazie di essere qui con me oggi oggi voglio fare un video di prelievo 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 preliesieri ho fatto produttivo di questo tipo più di un anno fa mi era piaciuto tantissimo e in tanti mi avevate chiesto di rifarne un'altra e visto che ho anche la nuova fotocamera mi sembrava giusto tra l'altro queste pelle non sono splendide tra l'altro queste pelle non sono splendide che è remote sounds l'attenzione l'attenzione personale cominciamo subito a togliere i pensieri uno 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 ad uno ad uno con me anche delle forbici per aiutarvi a tagliare i pensieri proprio proprio che non se ne vogliono andare cominciamo a cercarli per aiutarli ok eccolo qua e un altro sacchi cerco di allontanare quelli un po' più leggeri superfici alle preoccupazioni proprio del momento semplicemente soffiandoci sopra e leggeri e leggeri subito via 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 liberati di tutti 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 pensieri tutti quanti grazie anche all'aiuto di queste perline magiche che hanno il potere di attirare i pensieri negativi come una calamita di prenderli e di buttarli via e prenderli e prenderli datemi in modo che queste perline agiscano il più possibile e prelevò alzacche via 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 E ancora, qui secondo me, qui, aspetta, 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 allora qui in basso, zack, via anche quello. Allora, qui vedo un pochino di paura del futuro, mi sembra, togliamola, pensa al presente ora e in questo momento, pensa solo al presente, a rilassarti. Il futuro è ancora tutto da scrivere, il presente lo stai scrivendo ora e studiamo questa paura che serve un po' di perlina, togliamola, la facciamo attirare tutto, ok, 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 ok. E via E ancora un po', eccoci qua. Prelevo, prelevo, prelevo e zac, 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 zac. Sono magiche queste perline. Lasciati aiutare A trovare la pace, la serenità, la tranquillità. Quindi continuiamo, 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 continuiamo con il prelevo dei pensieri e non ti preoccupare. Coditi questo momento di relax, in pace, in pace, tranquillità, perché te lo meriti, te lo meriti, te lo meriti. E prendo ancora qui, e prendo anche qui, zacc, 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 zacc. ecco qua taglio tutto e via 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 adesso userò un altro attrezzo prima di passare alla seconda parte perché ricorda che andiamo sempre più in profondità sempre più a scavare e a togliere i pensieri più radicati in noi prima lasciamoci un altro po' le perline ok quindi le senti le senti che stanno agendo su di te ti stanno togliendo tutti 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 pensieri negativi tutti quanti ok da quelli più importanti qui non conta nulla non conta nulla conto solo che la tua mente adesso diventi 100% positiva propositiva felice contenta libera leggera leggera ok un altro po' lasciamone lavorare lasciamone lavorare e ancora e ancora non via alle vorbici perchè sono un po' più difficili da tagliare quindi ancora e ancora e ancora zack 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 ok continuiamo un attimo a fare questa azione di prelevare e tagliare e dopo manderemo via tutto un'ultima volta lo senti che pensieri stanno andando via? li sto tagliando tutti per te e un altro qui sotto e l'ultimo qui esattamente qui allora cosa ne pensi di queste forbici? sono state brave? adesso appoggiamole perchè tutti questi pensieri tagliati vanno rimossi 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 ecco qua via 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 Sì, sì, sì. ecco qua benissimo adesso direi che la tua mente è fresca, pulita, leggera come ti meriti e puoi fare un buon sonno semplicemente goderti questo relax e questo momento e ogni volta che avrai bisogno c'è un'operazione del genere basta tornare qui tornare da me e ti farò stare meglio stare meglio stare meglio perché è normale sentirsi un po' la testa piena la testa con troppi pensieri, troppi pensieri, troppe preoccupazioni ma non è normale daversa la tenere, ok? ogni tanto bisogna tagliarla via e visto che questa è perle magiche possiamo farlo quindi a questo punto io penso proprio penso proprio penso proprio le luci e augurarti augurarti una buona 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 notte buona notte sogni d'oro buona notte sweet dreams buona notte dolce 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 un bacione questa energia positiva però la devi prendere che li spera che li spera buona notte dolce 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 dolce